Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie dell'invito, è un piacere essere tornato qui a distanza appunto di 5 anni. Mi scuso per essere arrivato, ahimè in aereo Luca, quindi già comincio malissimo. Mi farò perdonare cercando di risparmiare non necessariamente CO2, cercando di non respirare, ma almeno di risparmiare tempo, quindi sarò più rapido di quello che era stato inizialmente immaginato. Io ho preparato delle slide in inglese che poi lascerò, ma parlerò in italiano. Conoscete il Social Media Guard? No? E' uno strumento straordinario per superare in qualche modo uno dei limiti del nostro essere continuamente attaccati al cellulare, che ci fa concentrare su quella macchinetta piuttosto che quello che abbiamo intorno, lo potete trovare su YouTube, ma fondamentalmente è un collare per cani, che ci obbliga a alzare lo sguardo. Tra l'altro troverete il video molto divertente, molto ben fatto, con sotto la musica di 2001 di Sede nello Spazio, quando la scimmia si alza e finalmente riesce a guardare il futuro. Questo è quello che dobbiamo provare a fare, Luca l'ha già fatto naturalmente nella sua relazione, io mi concentrerò sugli aspetti non ambientali della questione, anche se naturalmente tutto è estremamente connesso. E proverò proprio a concentrarmi su questo aspetto della connessione. A conferma che le persone che sanno sono piuttosto spaventate, si vede chiaramente, questa è la mappa dei rischi compilata da World Economic Forum sulla base delle risposte di circa mille amministratori delegati di tutto il mondo, di multinazionali, e vedete che a destra e in alto, tra gli eventi più probabili e quelli a maggiore impatto, c'è il cambiamento climatico, ci sono i fenomeni atmosferici estremi, ci sono le migrazioni, eccetera. Questo è quello su cui teoricamente tutti noi dovremmo concentrarci e naturalmente chi sa come le multinazionali stanno provando non necessariamente a risolvere il problema, ma a minimizzare i danni che possono avere su questi aspetti. Quello che vedete sopra è la previsione più recente dell'Ocse, pubblicata qualche settimana fa, sulla crescita economica da qui al 2060, fatta con modelli che possiamo discutere naturalmente, ma fondamentalmente ci dice che i Paesi sviluppati, bene che va, avranno un tasso di crescita del PIL, del prodotto interno lordo, dell'ordine dell'1,75%, la previsione precedente di qualche anno fa era di circa il 2%, e anche gli altri Paesi tenderanno naturalmente a rallentare fortemente il loro tasso di crescita del PIL. Inoltre, a sinistra, le disuguaglianze che abbiamo osservato crescere negli anni tenderanno a crescere ancora di più in futuro, il cambiamento climatico, salto perché ne ha parlato Luca, e a destra invece è una simulazione sull'impatto che l'automazione avrà sul lavoro. Secondo l'Ocse, e ancora l'Ocse nel grafico, non sarà il 40% dei lavori attuali che spariranno, ma solo il 10%, per così dire, ma il 40% dei lavori cambieranno radicalmente modo di essere svolti a causa dell'automazione. Noi, come Commissione mondiale sul futuro del lavoro, all'Organizzazione mondiale del lavoro, usciremo a gennaio con un rapporto appunto sul futuro del lavoro. Io credevo di essere tra i più pessimisti, ma ho scoperto che gli altri 25 commissari che vengono da tutto il mondo erano più pessimisti di me. Uno dei punti chiave che di nuovo Luca ha trattato per ciò che riguarda la questione ambientale ha a che fare con le non linearità. Il punto cruciale è che noi invece insegniamo ai nostri studenti, e in generale siamo stati formati, a dei modelli di natura lineare. E sappiamo che questo non sarà più la realtà nella quale ci muoveremo. Tra l'altro suggerisco a tutti di leggere questo rapporto, che trovate liberamente scaricabile attraverso la rete Thinking the Unthinkable, è stato adesso pubblicato anche un libro, basato su un'ottantina di interviste anonime, a meno che l'intervistato non decida di dare il proprio nome, a leader politici, leader di imprese, a esperti, anche ai cosiddetti alti burocrati, sul perché le nostre istituzioni, ma anche le imprese, la nostra società, appare totalmente incapace di anticipare le grandi trasformazioni e quindi veniamo sistematicamente in ritardo. Arriviamo tipicamente in ritardo e non riusciamo ad anticipare. Tra l'altro la lettura di questo rapporto è molto istruttiva su come funziona la politica, su come funzionano le strutture, il che consente anche di depersonalizzare o spersonalizzare, scusate, magari la nostra rabbia verso alcuni politici di turno, perché il problema sembra globale e deriva dalla complessità. Per cui, spaventati in realtà dalla complessità, noi non siamo neanche sapiens sapiens, ma regrediamo a livello di sapiens, semplice, e dunque tendiamo ad ascoltare quelli che rafforzano i nostri preconcetti, le nostre idee, piuttosto che essere aperti a chi ci obbliga a cambiare punto di vista. Con Ugo e altri abbiamo festeggiato i 50 anni del Club di Roma. Quelle linee tratteggiate erano le previsioni fatte nel 1972 nel rapporto famoso sulle linee della crescita. Questo era, per esempio, l'andamento della popolazione previsto, questo era l'andamento del cibo pro capite, eccetera. Le linee tratteggiate erano gli andamenti previsti in uno degli scenari nel 1972. Gli andamenti effettivi sono le linee continue. Cioè, fondamentalmente, negli ultimi 40 anni, nonostante l'enorme trasformazione che abbiamo fatto del mondo, siamo sulle linee di schianto. Perché, come vedete, le previsioni erano che si arrivava a circa 8 miliardi di persone nel 2030 e si tornava a 6 miliardi di persone alla fine del secolo. Normalmente, a questo punto, qualcuno lascia la sala dicendo, io le ultime ore le vorrei passare con la mia famiglia. Avete presente il film Deep Impact. Ecco, in realtà, la vera domanda che ci dobbiamo porre e che ci dobbiamo obbligatoriamente porre è una visione distopica del futuro, come questa, cioè un disastro assoluto. E' quella che poi ci spingerà, come sta spingendo alcuni ricchi della Silicon Valley, a farsi costruire dei bunker in Nuova Zelanda, come recentemente hanno riportato alcuni giornali. Quella è la scelta in cui, naturalmente, pochi ricchi si salveranno e gli altri, come dire. Good luck. Seconda possibile visione. La visione che Bauman chiama retrotopia. e cioè l'idea di poter tornare al passato. E Bauman, nel suo ragionamento, nel suo libro, Retrotopia, fa un ragionamento, a mio parere, molto importante. E quello vuol dire, noi umani abbiamo fatto tanti salti nella nostra vita, nella nostra storia. Abbiamo lasciato le caverne, siamo diventati agricoltori, poi abbiamo fatto le città e poi gli stati, gli stati sovranazionali. Bene, ogni volta abbiamo allargato il concetto di noi e abbiamo ristretto quello di loro. Dice Bauman, oggi siamo all'ultimo salto. Tutti siamo noi, e io aggiungo, anche il pianeta siamo noi. E gran parte delle persone, per motivi culturali, per motivi di scarsa informazione, eccetera, non sono pronti e adeguati a fare questo salto. Quindi si affidano a chi gli promette di poter tornare indietro. Magari elevando dei muri, magari buttando a mare gli immigrati, eccetera, eccetera. Questa è la visione retrotopica del futuro che sta guadagnando spazio intorno a noi. Oppure ancora una visione utopica del futuro. Ora, la domanda è, da, prendiamo per buono un attimo questa simulazione, da quegli 8 miliardi del 2030 al 6 miliardi di fine secolo, come facciamo ad arrivarci? Sarà l'ambiente che ci ucciderà? Evidentemente il software non sopporta questa... È un grande peccato, ma insomma... C'è un collegamento internet qui, è collegato con internet? Vabbè, ve la racconto io. Provo a... Qui ci sono due scimmiette. Una a sinistra e una a destra che devono fare un semplice lavoro. Devono prendere una pietruzza, spostarla e a quel punto ricevono un cetriolo, un pezzetto di cetriolo, come ricompensa. A un certo punto, a quello di destra, viene dato un acino d'uva. Quello di sinistra vede. Al momento di fare il suo lavoretto, fa il lavoretto, tira fuori la manina e gli viene dato un cetriolo. Un cetriolo. Ancora un cetriolo. E la scimmietta tira fuori il braccio e butta il cetriolo contro l'operatrice e comincia a sbattere la gabbia. Quella di destra di nuovo fa il suo lavoretto, riceve l'acino d'uva. Quella di sinistra gli viene chiesto di fare il lavoretto. Comincia a dire, cioè, il gesto è proprio come dire, no, 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 fallo, fallo. Rifai il lavoretto, riceve di nuovo il cetriolo e lo butta contro l'operatrice di nuovo, arrabbiandosi alla grande. Lo trovate googlando inequality cappuccines, perché sono appunto le scimmie cappuccine. Io sono profondamente convinto che lo schianto avverrà per motivi sociali prima che per motivi ambientali. Questo ci dà un'idea di quanto siamo indietro nel nostro modo di pensare. Ad esempio, abbiamo capito che l'economia circolare è importantissima, per cui, abbiamo detto, ricicliamo gli oggetti, i materiali. Ma di riciclare le persone. Sentite parlare di un'economia circolare, eccetto il Papa, che in qualche modo assicuri questo continuo riutilizzo, riempiego, ricoinvolgimento delle persone. L'agenda 2030, già stata citata da Luca, è un passo avanti molto importante. Approvata da tutti i paesi del mondo, tra cui l'Italia, a settembre del 2015, è articolata in 17 obiettivi, 169 target. Il punto cruciale di questa agenda, oltre al fatto che ci sono quattro pilastri, economia, società, ambiente e istituzioni, che basta che uno cada e gli altri cadano, e che fondamentalmente è un modo di pensare integrato. E io il modo migliore per rappresentare questa integrazione lo trovo in questo grafico, che in gran parte deriva dal lavoro degli economisti ecologici, Bob Costanza e altri, noto dal 1997. Noi scambiamo con l'universo energia solare e immettiamo calore nell'universo. Tutto il resto ce lo giochiamo internamente. Prendiamo il capitale naturale, il capitale umano, il capitale sociale, il capitale economico, lo combiniamo in un processo di produzione, produciamo bene i servizi, pil, una parte lo reinvestiamo, una parte lo consumiamo. Ma il modo in cui articoliamo il processo di produzione ha un impatto diretto sul benessere. Se usiamo schiavi o se usiamo dei lavoratori che vengono coinvolti nel funzionamento dell'impresa, beh, questo fa una grossa differenza. E il modo con cui produciamo e consumiamo genera rifiuti. E i rifiuti impattano sul benessere. Attenzione, non solo i rifiuti fisici, ma anche i rifiuti, come ci ricorda il Papa, umani. Perché la cultura è la stessa. La cultura che genera i rifiuti fisici è la stessa che genera i rifiuti umani. E avendo fatto per dieci mesi il Ministro del Lavoro, ricordo perfettamente quando venne l'amministratore delegato di una grandissima impresa a dirmi Ministro, io sono pronto a fare tutto quello che vuole, a supportarla in tutti i modi, purché lei mi dia una cosa. Che quando io decido di licenziare qualcuno, io quella persona non la vedo più in vita mia. mi rendo conto che qualcuno deve farsi carico di quella persona, dovete essere voi, ditemi quanto mi costa, ma io quella persona non la voglio più vedere in vita mia. Che la logica è di chi dice ah, io i miei processi di produzione non li cambio, inquino, se mi beccate ditemi quanto costa e io pagherò la multa. Esattamente la stessa logica. il punto è che i rifiuti, gli scarti fisici impattano sui servizi dell'ecosistema. Di nuovo ce l'ha raccontato prima Luca. Se aggiungiamo questa casella che sono i servizi del sociosistema, la pace, la coesione sociale, la fiducia reciproca, allora capiamo che un eccessivo ammontare di scarti umani, oltre che avere un impatto diretto sul benessere, ha una funzione di retroazione analoga a quella dei servizi del sociosistema, che è esattamente quello che stiamo perdendo. Ora, se noi mettiamo qui i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà, la alimentazione, la salute, l'educazione, la disuguaglianza di genere, l'acqua, l'energia, l'economia, la creazione di occupazione, l'innovazione, le disuguaglianze, il funzionamento delle città, delle nostre infrastrutture, l'economia circolare e poi la lotta al cambiamento climatico, la condizione degli ecosistemi terrestri e acquatici, la cooperazione, la cooperazione, lo sviluppo. Allora, capiamo che quell'agenda negoziata per quasi tre anni a livello internazionale non è semplicemente una lista, ma è un programma, è un progetto di trasformazione del mondo che ha una complessità enorme perché il mondo è complesso, è molto complicato. dopo essere stato coinvolto dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nel disegno dell'agenda una volta finito di fare il ministro del lavoro nel 2014, nel 2015 ho lanciato l'idea di costruire questa alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile che unisce oggi più di 220 soggetti della società civile, i soggetti che si occupano nell'associazione imprenditoriale, i sindacati, il volontariato, le università, i comuni, le regioni, eccetera, eccetera, per provare a attuare appunto questa agenda 2030 in Italia. E noi svolgiamo lavori su vari fronti e vorrei ricordare che i rettori delle università italiane hanno creato la rete delle università per lo sviluppo sostenibile che dopo aver già avviato i lavori per cambiare il modo con cui nelle università si gestiscono le energie, i rifiuti, l'acqua, eccetera, eccetera, ha cominciato a avviare le attività per insegnare i principi dello sviluppo sostenibile in tutte le materie, non soltanto alcune, e a cambiare dunque l'offerta didattica e di ricerca. Noi siamo nelle scuole, il nostro corso di learning quest'anno è andato a circa 30.000 docenti che poi hanno fatto tre giorni di, tre ore scusate, di lezione integrativa, eccetera, eccetera. Una delle attività che svolgiamo è l'organizzazione del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile che quest'anno ha avuto più di 700 eventi in tutta Italia e che verrà ripetuto anche nel 2019. Lavoriamo naturalmente con la politica cercando di suggerire tutta una serie di buone pratiche, di buone politiche con successi alterni, direi abbastanza limitati, ma questo non riguarda semplicemente un partito o una forza politica, è un problema generale di disattenzione. Noi abbiamo fatto anche firmare a tutte le forze politiche, hanno firmato tutte, eccetera, la Lega e Fratelli d'Italia un decalogo in vista delle ultime elezioni che tra l'altro prevede l'inserimento in costituzione del principio dello sviluppo sostenibile perché se avessimo un principio del genere molte delle leggi sarebbero forse dichiarate in costituzionale e comunque non le avremmo potute approvare negli ultimi settant'anni lo ha fatto la Svizzera, la Francia, il Belgio, la Norvegia e siamo contenti che ci sia in Parlamento una proposta di legge di riforma costituzionale già presentata e nei giorni scorsi questo può interessare tutti noi due parlamentari hanno deciso di avviare una raccolta di firme per l'inserimento in costituzione di questo principio quello che facciamo è anche misurare l'evoluzione dell'Italia rispetto ai 17 obiettivi usando più di 150 indicatori elementari elaborati dall'ISTAT poiché 150 indicatori sono tantissimi e nessuno riesce a capire come gestire il messaggio che emerge appunto da quei goal da quegli indicatori scusate facciamo questi indicatori compositi che sintetizzano per i 17 goal e qual è la conclusione l'Italia chiaramente non è su un sentiero di sviluppo sostenibile non raggiungerà mai gli obiettivi di sviluppo sostenibile a meno di un cambiamento molto forte e anche laddove stiamo migliorando come sull'educazione siamo oggi dove l'Europa era 10 anni fa la stessa cosa abbiamo fatto per i paesi europei usando i dati Eurostat e quindi per tutti i paesi europei e per l'Unione nel suo complesso avete questi indicatori compositi per gran parte dei 17 goal laddove gli indicatori lo consentivano consentivano cioè di calcolare gli indicatori compositi e di nuovo benché l'Europa sia la parte del mondo più sostenibile anche l'Europa non è su un sentiero di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi del 2030 Mi avvio la conclusione per raccontarvi brevemente di un lavoro che stiamo facendo con la Commissione europea su come costruire una narrativa politica e dunque immaginare politiche diverse per un mondo pieno di shock perché è chiaro che tu non vinci le elezioni dicendo alle persone sta per succedere il disastro il diluvio piuttosto perché i politici non amano parlare di cose per le quali non possano millantare di avere una soluzione quindi come si fa a aiutare la politica cioè noi alla fine a costruire una narrativa positiva e allora abbiamo provato a costruire uno schema che si parte dall'ampiezza dello shock vedete sull'asse delle ordinate e la durata dello shock se gli shock sono di piccola entità o durano poco tendiamo normalmente ad assorbire quegli shock se invece sono di media durata o di media ampiezza noi dobbiamo adattarci in altri casi dobbiamo trasformare il nostro modo di essere l'Europa per esempio nel 2010 pensava ancora di essere in quello spazio cioè dopo la crisi di Lehman Brothers ma fondamentalmente stavamo già riprendendoci poi è arrivata la botta del 2012 a quel punto abbiamo adattato le nostre regole molti pensano che l'Europa nel 2020 fondamentalmente sarà tornata nella zona in cui c'è solo da assorbire e non trasformarsi se invece prendiamo seriamente i dati che vi ho fatto vedere prima allora noi dobbiamo domandarci come si fa a trasformare profondamente l'Europa per adeguarla alle sfide presenti future e soprattutto a fargli raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile utilizzando uno schema che sviluppamo alle Nazioni Unite nel 2014 il rapporto sul sviluppo umano nel 2014 proponiamo fondamentalmente di riclassificare le politiche invece che in economiche sociali e ambientali in politiche che prevengono che preparano che proteggono che promuovono e che trasformano il cui peso a seconda di dove noi ci troviamo che chiaramente può differire allora così facendo scopriamo magari che alcune delle misure che immaginiamo di prendere per prepararci al cambiamento climatico possono essere anche misure di preparazione alla trasformazione del nostro sistema produttivo o nostro sistema di consumo idem quando parliamo di proteggere le persone ma anche i territori questo impone un cambiamento anche del modo con cui guardiamo per esempio al concetto della resilienza la resilienza è un fenomeno per cui si ricevono shock e si torna indietro ma tu vuoi tornare indietro solo se eri su un sentiero di sviluppo sostenibile se non ci eri beh devi prendere lo lancio del shock che hai ricevuto per rimbalzare avanti non indietro cosa vuol dire questo da un punto di vista economico da un punto di vista politico lo facciamo vedere in un lavoro che uscirà prossimamente però se voi andate su JRC che è il Joint Research Center della Commissione Europea e cercate resilienza eccetera eccetera trovate già due lavori e l'idea cioè che noi dobbiamo pensare in modo molto diverso a come giudichiamo le politiche oggi perché se io per esempio dico a un paese ah tu sei stato bravo perché sei rimbalzato velocemente a dove eri e dico no a un altro paese no tu invece hai rimbalzato di meno ma il futuro impone di essere su un livello diverso può darsi che il secondo paese abbia fatto un rimbalzo apparentemente più piccolo ma si è già posizionato sul livello nuovo mentre quell'altro che ha fatto un rimbalzo tornando a dove era forse sarà obbligato a una caduta molto più forte successivamente per andare sul nuovo sentiero di sviluppo ecco questi sono degli esempi che possono cambiare il modo con cui giudichiamo disegniamo e valutiamo le politiche per cui per esempio una serie di politiche economiche sociali e ambientali possono essere riviste non in modo settoriale ma appunto alla luce di questo nuovo modo di pensare concludo con un riferimento all'importanza delle interazioni tra i sustainable development goals perché è una delle obiezioni che viene immediatamente mossa agli SDGs e che sono troppo complessi e se tutto dipende da tutto allora io fondamentalmente come politico sono bloccato perché ogni volta che prendo una decisione dovrei guardare gli effetti su altre n variabili e alla fine sai che c'è faccio come dico io ecco c'è molto lavoro scientifico per cercare di identificare quali degli obiettivi sono indipendenti gli uni dagli altri quali tendono invece a rafforzarsi in modo mutualmente coerente e quali invece sono correlati negativamente e quindi effettivamente ci sono i trade off se migliori da un lato peggiori dall'altro come alleanza per lo sviluppo sostenibile noi abbiamo provato utilizzando un modello di equilibrio economico generale esteso a tutto il mondo con anche componenti di carattere ambientale sociale e economico a fare una valutazione per esempio della posizione dell'Italia rispetto in quel caso alla Svezia e abbiamo poi provato a fare degli scenari in cui siamo andati a guardare che cosa succederebbe da qui al 2030 in uno scenario business as usual e che cosa invece succederebbe se avessimo una serie di politiche per esempio il rispetto degli accordi di Parigi la transizione energetica oppure una strategia per i giovani eccetera eccetera e vedete che miglioreremmo da alcuni punti di vista ma non è che risolveremmo tutti i nostri problemi il punto cruciale di questa simulazione è un insegnamento molto importante per la politica e cioè se noi facciamo indipendentemente le varie politiche l'impatto che si ha sui 17 gol in alcuni casi è nullo in alcuni casi è positivo in altri casi è invece negativo se io per esempio pompo la crescita economica peggioro le emissioni se non ho fatto una transizione ecologica questo è il risultato del mettere insieme tutte le politiche simultaneamente e come vedete in alcuni casi addirittura c'è un cambio di segno questa è l'occupazione per esempio quindi non è detto che attuare la strategia energetica nazionale con la chiusura delle centrali a carbone necessariamente vuol dire ridurre l'occupazione se nel frattempo faccio altre cose qual è il vincolo enorme è l'obiettivo 13 che riguarda proprio il cambiamento climatico e quindi le emissioni di CO2 che cosa ci sta dicendo questa simulazione che se io anche facessi tutte queste cose insieme comunque sia non basterebbero ci dà un'idea dell'entità della trasformazione epocale che ci toccherebbe fare che ci tocca fare concludo con un riferimento appunto a questa pubblicazione per dell'Ox che ci dice cosa bisognerebbe fare per avere un approccio integrato e così via anche faccio riferimento infine al studio presentato da Rockström e altri alla conferenza del Club di Roma di qualche settimana fa in cui vengono presi a confronto quattro scenari uno scenario è quello di business as usual questo è quello classico che gli economisti dicono cioè pompiamo sulla crescita secondo è quello di provare a migliorare tutte le politiche insieme terzo immaginare una trasformazione straordinaria del modo con cui funzioniamo qual è l'esito vedete per esempio questi sono le quattro diversi scenari a fronte del numero di goal rispetto ai 17 che si riescono a conseguire per cui quello sul scenario di trasformazione questo qui consente al 2050 di raggiungere un numero di goal maggiore qual è il punto però il punto è che non dobbiamo guardare soltanto al numero di goal ma riconoscere che in alcuni casi abbiamo dei vincoli planetari che stanno lì indipendentemente da noi cioè sono delle soglie contro le quali ci andiamo a sbattere per esempio nel scenario business as usual vedete già oggi abbiamo violato già quasi quattro vincoli su nove scusate quasi cinque vincoli su nove e finiremmo per violarne ancora di più se mettiamo insieme quei quattro scenari di fronte ai 17 goal e ai vincoli vedete come appunto il rischio è quello sì di migliorare marginalmente una serie di goal per esempio quelli reddituali o quelli della povertà e così via ma di sbattere ancora di più sui vincoli invece planetari e quindi di fatto avere poi tutta una serie di risultati negativi quindi quello che abbiamo davanti è solo una strada una trasformazione profonda difficile complessa da avviare il prima possibile qualcuno potrebbe dire ma questa è una totale utopia sì è vero è un'utopia sostenibile come ho sostenuto nel mio ultimo libro ma la vera utopia stupida è pensare che l'attuale modello possa ancora funzionare questo è il cambio di paradigma che dobbiamo usare anche quando insegniamo anche quando sviluppiamo dei modelli scientifici che integrino economia società e ambiente per evitare appunto di pensare in modo stupido grazie mille grazie mille grazie mille